Ciao ragazzi Ciao Ciao a tutti ragazzi è importante sostenere i diritti delle persone sessuali chiaramente è anche giusto sostenere i diritti dei lavoratori perché prima di tutto anche gli gai sono lavoratori sono esseri umani, vanno in bagno, mangiano perché le libertà ragazzi sono importanti e non ce lo dobbiamo dimenticare mai le libertà vanno conquistate e i diritti vanno conquistati anche i gai si lavano, guidano, vanno al lavoro quindi per questo oggi anche i quadri di Catania sono venuto da Milano anzi mi posso dire che i gai sono più lavoratori, lavorano più i diritti io sono venuto da Milano oggi perché sono più a Catania per sostenere i diritti delle persone sessuali ricordiamo anche in quel soggiorno speciale i ragazzi di Giarre in cui è stato tratto il film alla stranezza, morti si che tu te lo soviste al cinema io non lo ho detto niente è ucciso dalla prima famiglia solo perché è semplicemente omosessuale Giorgio e Antonio è bellissimo, devo essere sul Rayplay bene adesso mi lascio con il camion Giorgio e Antonio Grazie a tutti.